Prima di iniziare col video volevo ricordarvi che qua sotto in descrizione trovate l'unico link al negozio del merchandising ufficiale dei Mates www.matescollection.com ma soprattutto il link per acquistare i biglietti dell'evento del Mates & Friends che si terrà il primo giugno al Fabrique di Milano Mi raccomando ci sono anche le informazioni per telefonare, mandare delle mail in caso aveste dei dubbi, veniteci perché sarà veramente molto figo Pollicione in su, iscrivetevi al canale e buona visione Però ragazzi questo è Stepney e bentornati con questo novissimo video della serie di Fortnite Nello store hanno inserito Laguna Pack che se non sbaglio è il pacchetto che ti permette di fare le solo versus duo E che fai lo lasci lì? Assolutamente no, lo acquistiamo immediatamente con il codice creatore Stepney E nel nostro armadietto avranno inserito questo personaggio che è veramente molto figo Poi lo sapete io ho un debole per il rosso, se mi metto le cose rosse ci casco subito E andiamo immediatamente a sfidare la sorte Raga sarà dura ma ci proviamo Inizieremo la missione delle solo versus duo all'interno del nostro caro vulcano Se ci vengono due persone e mi pigliano per bene siamo già morti Tranquilli che questa è casa mia non possono fregarmi, ci so fare Ciao, e uno è morto Copriamoci per bene che c'è da aprire un po' di roba qua Stanno provando a spararmi da sotto i piedi ma come vi permettete C'è anche una pozione da 50 da recuperare Eee aiuto Non bene Spariamoci lo scudo che siamo già nei guai Sta venendo a prendermi e no, 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 non hai capito nulla È sotto il nostro amico Via, 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 ho due di vita raga, via Siamo nei guai, guai molto grossi Siamo morti, siamo morti, siamo morti, lo so che siamo morti, lo so che siamo morti Siamo ancora vivi ma per pochissimo Sono dovuto scappare raga, rendiamoci conto Due di vita Sono un cadavere che vola in qua e là Datemi almeno delle bende, non lo so, vi prego Se non ricordo male, qua sotto c'era un falò, giusto? Eh sì, mi ricordo proprio bene Ok, con calma Siamo ancora in carreggiata Meno male, c'è la macchinetta leggendaria per noi qui Non dobbiamo neanche spendere soldi Dimmi che c'è un chug chug dentro, ti prego Due fucili a cecchino e un pompa bello Pompa tutta la vita Sta arrivando un airdrop Quindi sbrighiamoci Ah no, è già atterrato Dobbiamo muoverci Qualcuno si sta avvicinando Devo fare il trick, eh Preso È bianco, credo, eh Ok Muori, grazie Che bellezza Non uso le pozioncine Perché c'è un chug chug ancora da recuperare Chug chug e lancia missili Porca miseria la ribaltiamo Dai step, io credo in te Cioè, credo in me Avete capito? Perché questo tizio era qua da solo Ora che ci penso? Ha visto l'airdrop e ha detto al suo compagno Io vado in missione Eh, bella fine, sì Ce ne andiamo via, va? Mi stanno sparando appieno in passo Non è il caspite, raga Oh mio Dio Perché siamo vivi noi? È un miracolo Entra in sto cannone Non entra, raga Via Via, 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 via Wow Io non so cosa siamo sopravvissuti Vi dico la verità È un miracolo Ti prego Chug chug qua dentro Mi fai la persona più felice del mondo Va bene Va bene, va benissimo Va benissimo Eccolo che arriva Preso in pieno Ah 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 Sì, sì L'avevo ucciso Che bello, raga Che bello Mamma mia C'è veramente un airdrop Oh mio Dio Via, veloce, veloce, veloce Scar Scar leggendario Andiamo via Si sparano esattamente qua davanti Però mi sa che è da solo il tipo Vediamo prima dov'è la prossima zona sicura Va Laggiù in fondo Via, 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 via Non voglio rischiare di morire così Arrivano, eh Stanno bombardando me Ma perché No Davvero che è preso Dannazione Mi hanno fatto il noscope Col fucile da cecchino Questi due erano insieme Altrimenti li avremmo ammazzati Peccato Vabbè Ci sta Dai step Ce lo puoi fare Ancora ci riprovi Il primo atterraggio al vulcano Non è andato malissimo Il che vuol dire Che adesso Ne andremo da un'altra parte Ovviamente Visto che non ci sarà nessuno Facciamoci un bel picco polare Tranquillo C'è gente pure qua Benvenga Li ammazziamo tutti Raga Noi grazie Sono il re di questo posto Veramente pensate di fregarmi Così Non esiste One shottato Che fastidio Ma vi pare che mi fa 160 danni in un colpo Disse quello che prima Si è salvato All'avamposto dei pirati One shottando una persona Nel frattempo Abbiamo sbloccato Degli oggetti nuovi Che carino Che è questo Beh potrei anche Di metterlo subito Volendo Possibile che non ci sia nessuno Quando a terra Trovo un'arma Pannaggia Grazie per la slurp Questa mi ci voleva proprio Ciao bello E il tuo amico Siete stati fatti fuori Entrambi Io uccido tutti Torniamo indietro Che qui è troppo alta La situazione Per i miei gusti Ok No No non si fa Buttiamo via Questa partita Vi prego Che fatica Raga E' cecchinato Asgarra Lollinoba Mi sparo un colpo E muoio Bello Grandioso 4 kill Dentro al cesso Con catenella Ho dovuto interrompere La registrazione L'altro giorno Quest'oggi Ci riproveremo Con la nostra Cara Tennista Sempre solo Versus duo Vediamo un po' Cosa succede Borgo bislacco Potrebbe essere Un po' Azzardata Però Dobbiamo provarla Raga O risichiamo O rosichiamo C'è un lama Sull'albero Sotto di me Dovrei andare a prenderlo Secondo voi La risposta Per quanto mi riguarda E' sì Quindi non me ne frega Niente di nessuno Probabilmente non l'hanno visto Altre persone Meglio avvicinarsi Con un'arma Che Senza nulla Dovevo andare a borgo bislacco Lo so Però Quando ti regalano un lama Dobbiamo prenderlo Non possiamo lasciarlo lì Mettetevi nei miei panni Sono 600 materiali Gratuitamente 3 pozioni Da 50 Beh questo è un bel cop Senza dubbio Certo che prima di ingaggiare Il combattimento Anche un'arma di supporto Non mi farebbe schifo Molto bene Possiamo andare Ciao Double kill Easy peasy Outplayati entrambi Va bene così Erano i vincitori di borgo Quindi adesso I migliori siamo noi Dove andiamo Non lo so Non ne ho la più pallida idea Situazione delicata Ballerine O glider Ma il glider È molto forte Soprattutto Nel solo Versus duo Che devi salire in alto Per combatterli tutti È fondamentale Devi stare calmo Dov'ha Non è stata proprio Una mossa astutissima Da parte tua Che stronzetto Ok La vuoi mettere Su questo piano Va bene Morto Sto barret Non mi dispiace Oh 40 gente C'è là Bono Bono Intervengo io Uno è morto Mi hanno rubato Non ci credo mai No no Mi hanno rubato la kill E mi hanno ucciso Ma perché devono sempre intervenire Quando combatto contro un team Considerando che per vincere Dovremmo tryhardare tantissimo Io direi di andarcene Al picco polare Lo conosciamo molto bene Resistiamo fino alla fine E proviamo a portarci da casa Terraggio molto pulito Abbiamo già un fucile a pompa Questo ci cambierà ovviamente la partita Nel caso in cui Arrivasse qualcuno adesso E ovviamente Quando io trovo un fucile a pompa Non c'è mai nessuno Non è venuto nessuno A picco polare Che strana sta cosa Molto molto strana Due slurp Questo è veramente molto buono Un buon loot Manca solo un hacappino Eccolo Si sparano fuori Va bene così Dove scappi? Dove caspita è? Ciao E tu con lanciagranate Sei un matto Non abbiamo laserato anche lui Un bel colpo di cecchino in faccia E via C'era un'altra persona sopra Quindi ora aspettiamo Un attimo di farmare i materiali Poi saliamo E cerchiamo anche l'ultimo Il picco polare Regala solo gioia C'è sempre qualcuno da mietere Sento sparare Sta scendendo per andare a pushare È bellissimo Arriviamo da dietro Poi Ciao Buona entrambi Bella giocata Step Vai così Chi è il più forte? Tu Abbiamo 4 kill Zitti Zitti Mamma mia Completely on fire Quest'oggi Sì proprio non riusciamo a vincere Eccolo il problema principale Un cespuglio Very good Ragazzi Danni protetti Non potevamo chiedere di meglio In realtà Ora ce ne andiamo dritti Là nella zona Della dove dovrebbe esserci La zorgable E nella zona sicura Ovviamente Colpi di barret Laggiù in fondo Non ha senso intervenire ora O si Potrei anche spararglielo Un colpettino Mamma mia Non devo farlo curare Eh no Non esiste Sono fuori safe O sono ancora in safe Mi sa che sono in safe No Sono precisi Che culo che hanno I'm coming For you Non gli ho sparato Giusto per non fargli capire Che sto arrivando Boom Che è successo Non lo so Sono morti tutti Questo è l'importante Mi ha tirato una ballerina addosso Però era già morto Nel momento in cui mi ha colpito Tanto ci sarà sempre qualcuno Che mi rovenirà la giornata Lo so Andiamo in zona sicura Sono ancora dentro a un cespuglio Vuol dire che non mi hanno mai colpito Una cosa molto buona questa Niente da notificare qua giù in fondo Me sa de no Come si vola Woo Spiderman Possibile che non abbiamo trovato nessuno Cioè sono a parco pacifico Non è che sono sperduto chissà dove Mi stanno sparando a diritto Direi di farne a meno Oh Oh Che rabbia Che rabbia che hanno questi Oh Oh e questo Wow Wow Devo assolutamente aspettare Che lo slurpio finisca Se no siamo morti Ma come no Sì Spara di sta slurpina Che moriamo Altrimenti Bella così Siamo carichi We are back Via Woo Wow 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 Calmi amici Calmi Calmi Siete arrabbiatissimi Non ne vedo il motivo Sinceramente Non ho più materiali Siamo morti Siamo morti al centro Della zona sicura Quindi il fulcro di tutto Ma guarda Ma cosa Cosa volete Apri sto coso No 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 Eh va bene Grandi Bravi Siete dei geni Del male Fai una soddisfazione Un po' deluso Devo dirvi che anche questo video Di oggi termina qua Le solo versus duo Rimangono un tabù Impossibile Da portare a casa Spero che vi sia piaciuto Se è così è stato lasciato Mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Grazie per aver capito Il video Questa è per tutto Pari Sti video mi spaccano la testa